Ancora, Pana Nadella vuole portarmi un po' di fine Helsinki, e credo! Eh, brutto mondo! Porto il più lontano, no? Eh, ma vuoi conoscere Papa Nadella? E qui dice che fa un sacco di ragazzi! Vecchio però Lelu, il ne fa mica gli annulli, anche se il pervo e il bocabone! E l'ora, quando il passa, slunghi la bronze, e qui si fermi sicuro! Ahahahah, che razza dunna del! Via Garden Store per i festi, e fborti in giro per il mondo!